Ciao a tutti, siamo a Torreno, siamo nel mitico Grattacielo Panorama, quindicesimo piano, Corsa Inghilterra. Abbiamo appena preso il premio per la menzione, io non c'ero dalle donne alle donne, mi dicono che si intravedono le montagne, Superga, la Mola Antonelliana, insomma la mitica Torino. Questo è il palazzo, o meglio il Grattacielo, che è insomma quindicesimo piano, vedete voi, ma c'è una balaustra talmente alta che qui sui Cidi credo proprio che non ne possono fare. Scherzi a parte, è bellissima, la giornata è più o meno limpida, non la vedo ma la sento, l'aria è freschetta, vi assicuro che al quindicesimo piano lo smog non lo sento, può darsi che sarà più alto. Boh, magari pensavo ci fosse più smog al quindicesimo piano. Ciao a tutti!